signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e in questo nuovo episodio della rubrica il salotto sul crogiolo quest'oggi qui con me ho il piacere di avere un artista che ha fatto della sua passione un lavoro in segna di vulga ed è un forte sostenitore di uno dei tcg più famosi sul mercato ovvero yugio signore e signori ho l'onore di avere qui in mia compagnia mirko conosciuto anche sui social con lo pseudonimo di mirk o riprendendo per l'appunto il nome del capolavoro del maestro takashi grazie infinite di aver accettato il mio invito buonasera a tutti i ragazzi buonasera a te arconte e ti ringrazio per avermi invitato e sono contento di essere qui con voi stasera mirko parlaci di te soprattutto della tua passione per il disegno allora la mia passione per il disegno nasce già da quando ero piccino già da quando più o meno andavo all'asilo grazie a mio padre perché lui mi spingeva a disegnare tanto lui pure diciamo fatto artistico è architetto quindi disegnava tanto nel tempo libero quindi mi faceva pure vedere come si poteva disegnare come si poteva fare una cosa anziché un'altra e quindi alimentava questa questa passione poi l'ho portata avanti all'elementari e parecchi bambini poi si fermano magari lì invece ho continuato sia un po perché gli amici ti dicono ah sei bravo a disegnare quindi continui sia perché mi piaceva sia perché continuavo diciamo ad essere spinto dai miei la passione si alimentava e poi ho sempre pensato di voler fare il disegnatore come come mestiere all'inizio magari pensavo di voler fare i cartoni animati perché li guardavo mi piacevano e pensi da piccolo magari è facile farli invece poi scopri che è complicatissimo però diciamo ha sempre stato l'idea quella di disegnare anzi ti dirò prima di voler fare il disegnatore quando mi chiedevano che lavoro vuoi fare da grande dicevo il ladro perché guardavo perché guardavo lupen e mi piaceva quello che faceva anche se poi non ricava mai nulla dai suoi colpi perché perdeva sempre tutto mi piaceva l'avventura quello che faceva lui però mi hanno spiegato che il ladro non è un mestiere che si può fare quindi ho virato sul disegnare i ladri anziché fare il ladro quindi diciamo c'è stato questo repentino cambio di idea e ho continuato sempre a disegnare poi al liceo e poi ho fatto le scuole diciamo di fumetto per trasformarlo proprio il lavoro quindi tu sei un disegnatore e sei conosciuto sui social per essere un disegnatore soprattutto di carte yugi quando ti è nata la passione per il tcg del maestro kazuki takashi ecco giustamente poi mi è nata insieme a diciamo all'arrivo del della versione animata di yugio in italia quindi avrò avuto sui sei anni se non sbaglio e quindi non c'erano ancora le carte fisiche disponibili in italia che facevamo le disegniamo sui cartoncini sui fogli a quadretti li tagliavamo e ci giocavamo quindi le due passioni diciamo sono sempre andate un po di pari passo anche questo creare carte personalizzate eccetera c'ero da quando ero piccino poi dalle carte disegnate così siamo passati alle carte pezzotte bruttissime quelle puzzolenti stroboscopiche eccetera che erano le uniche che si trovavano all'inizio e poi diciamo dopo anni prendemmo i primi mazzi originali mi ricordo ancora con mio fratello il mazzo imperatore della fiamma infernale c'è quello il terzo deck struttura eccolo di fuoco il deck foglia zombie che era il primo struttura uscito che prese mio fratello quindi hanno lui prese scusa no quello drago il deck drago quello con drago neri occhi rossi drago scuro occhi rossi eccetera quindi erano drago e fuoco il secondo e il terzo e da lì cominciamo a giocare tra noi poi tra amici poi con passare del tempo in pari sempre meglio e nel 2006 ho cominciato a fare i primi tornei ho cominciato a prendere i primi treni per andare a local local regionali e fino poi al 2012 quando ho concluso il liceo tutto il gruppo di amici poi si è andato chi da una parte da un'altra quindi ci siamo allontanati e senza il gruppo di amici per me ha avuto poco senso continuare cioè non mi divertivo andare a fare il torneo da solo cioè senza senza gli altri non aveva lo stesso sapore poi c'era sempre meno tempo perché cominciare a studiare disegno in maniera professionale è bello tosto cioè imparare il disegno le tecniche del disegno è difficile perché poi capisci pure che in realtà non è mai saputo disegnare quindi pure devi reggere un po di shock e di traumi legati all'inizio di questo di questo percorso quindi ho abbandonato per poi tornare nel 2017 grazie al film dark side of dimension che mi è piaciuto un botto mi ricordo ero da poco a roma e lo andavete da solo perché all'inizio non conoscevo nessuno e da lì ho cominciato a comprare i move back che si trovavano in edicola a collezionare poi piano 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 è ritornata sta passione come vedete poi alle spalle è esplosa nel corso del tempo infatti vedo che hai leggendo del drago bianco i primi 4 sono lì insomma ho già ho l'occhio clinico diciamo che a differenza tua io purtroppo dietro il nulla cosmico però fra un po sistemerò anche questo e la domanda che adesso voglio farti dato che tu comunque sei un giocatore di yugi veterano oramai è la seguente e credo che io l'abbia fatta a chiunque a luci spente mentre a te la faccio proprio in onda ovvero sei più team yugi o team caiba allora ti dirò io sono più team caiba perché non mi piaceva già da piccolo non sopportava il fatto che gli uchi pescasse le carte a comando va bene ex odio nel primo episodio che figa come cosa però poi a un certo punto cominciano a creare delle carte così specifiche per uscire fuori da una determinata situazione che era rasentava il fastidio proprio perché per quanto caiba progettasse il deck con una logica una sinergia tra le carte i mostri unione i mostri che potenziavano la strategia del drago bianco quindi aveva pure una certa linea d'azione per essere un mazzo dell'era della della prima stagione invece yugi era una cozzaia di carte tutte slegate tra loro che però funzionavano perché utilizzava il cuore delle carte ci credeva diceva e quindi non mi piaceva mi piaceva più caiba anche perché ho sempre amato un po più diciamo i coprotagonisti per esempio preferivo e preferisco paperino a topolino e preferisco magari i cavalieri secondari anziché pegasus nei cavali dello zodiaco per citare qualche opera che mi piaceva da piccolo e continua a piacermi e quindi team caiba anche perché caiba si è fatto proprio da solo c'è partito che era un orfano senza famiglia che badava al fratellino si è studiato per mesi un magnate dell'economia l'ha sfidato a scacchi ha vinto si è fatto adottare poi ha soffiato l'azienda che si era l'azienda bellica che si era costruita negli anni l'ha trasformata in un'azienda di giochi quindi ha pure migliorato insomma situazione poi si è diventato il top di gamma del suo settore voleva essere il top di gamma pure nel nell'ambito della sua passione non c'è mai riuscito a causa di yuki cioè nella nel manga poi ancora meglio perché lui cerca i tre draghi bianchi il giro per il mondo non è addirittura dice che ha soldati sicari che hanno ammazzato i collezionisti e si è rubato i draghi bianchi ha speso cifre impossibili per acquistare uno di questi e poi niente arriva yuki che lo batte col cuore delle delle carte insomma e quindi tutta la meritocrazia viene mandata a quel paese sì infatti diciamo che tra il protagonista e l'antagonista che poi diventa la la spalla perché joy di solito viene inteso come spalla ma in realtà la il duellante quello vero e proprio è proprio kaiba io sono del tuo stesso team perché credo che credo che kaiba sia proprio il duellante per eccellenza ovvero quello che si studia diciamo che il deck di kaiba è stato il primissimo tematico apparso mai in yuki o per proprio perché aveva il drago bianco tutti i draghi la maggior parte era era un mazzo praticamente composto da draghi e quando si dice devo credere nel cuore delle carte la nella realtà si chiama in un altro modo il cuore delle carte perché quando ti serve quella carta e la peschi è fortuna sono stato molto sono stato molto signorile in questa è però quando diciamo che non è il cuore ma un altro organo quello che inizia sempre con la c però insomma ecco è il delle carte quindi insomma anche io sono e poi ovviamente il coprotagonista è quello che ha uno sviluppo molto più concreto mentre il protagonista prosegue sempre sulla propria retta ora parlando di team yuki e team seto volevo farti una domanda riguardante le varie serie di yuki ce ne sono tantissime per chi non è addentro alle dinamiche di yuki c'è stata la primissima serie con il faraone dopodiché c'è gx dopodiché c'è 5 dis dopodiché zex al eccetera eccetera la domanda che voglio farti è tra le varie serie di yuki a quale ti senti appartenere maggiormente e perché allora diciamo che ci sono motivi diversi che mi fanno legare più a una o più all'altra e allora la serie originale in assoluto perché quella con cui ho cominciato quindi conosci questo mondo grazie a quella quindi da affezioni a yuki ai mostri a poi da piccolo piaceva tantissimo abbandono pegasus si tune tutta quella serie di roba lì e quindi è stato amore a prima vista poi comprare l'album con le figurine tutti il merchandising legato oltre alle carte in sé eccetera e quindi quell'amore a prima vista gx mi è piaciuta però un po di transizione diciamo perché era la prima serie dove appunto nascono i mazzi tematici che ognuno c'è il l'ero elementale il deck cyber drago il deck cyber oscuro il deck mondo oscuro eccetera eccetera e vedevi pure un po di carte che poi si utilizzavano pure nel meta ed era figa come cosa a differenza della prima stagione che era completamente slegata dal gioco un po più serio però 5 dis mi è piaciuta forse anche di più dell'originale anche a livello di trama e della meccanica di gioco all'inizio no perché all'inizio vedi questi che giocano sulle moto dice ma che roba è cioè finisce gx e cominci subito questa è un po senti che cosa sto vedendo però continuando la vedere poi giocando sempre il competitivo con i vari tanner sincro eccetera mi è piaciuta tantissimo mi è piaciuta poi come hanno sviluppato l'utilizzo di delle motociclette nei duelli eccetera e soprattutto poi la vedevo mentre stavo al liceo quindi un po più grande ed eravamo tutti in fissa con yuki e c'avevamo quasi il nostro team che chiamavamo il team file dis in amicizia non ufficialmente come magari i team più grossi però andavamo sempre a fare il torneo tutti insieme ci spostavamo siamo andati pure una volta a milano agli europei dove accompagnato gli amici che si erano qualificati quindi nel frattempo vedevo fa di se quindi sono legato molto anche per questo motivo e poi il finale diciamo l'ultimo duello quello di giusei contro zona che usa tutti i mostri che creano poi il drago cremisi per evocare il quasi al cadente contro i mostri di zone che sono letteralmente divinità no se non sbaglio sulle 11 divinità che creano l'albero della vita mi è piaciuto un botto quello rivisto ultimamente mi piace ancora tanto ed è bello pure il finale dove ognuno poi diciamo del team segue la propria strada come poi abbiamo fatto noi quando abbiamo finito il liceo che abituati a vederci tutti i giorni sta sempre insieme da quasi per scontato no il gruppo però poi quando cresci nella vita le strade si dividono un po con tutti e rivedendola oggi ma ma abbiamo avuto un sapore anche un po diverso rispetto ad allora che non sapevi che l'aspettava invece vedendo la posteriore vedi che effettivamente ognuno poi ha preso la sua strada però come dicono lì poi ci ribecchiamo più avanti e ci ribecchiamo diciamo dopo aver magari raggiunto gli obiettivi e festeggiamo insieme cosa che per fortuna poi è successo quindi mi piace tanto anche per questo motivo poi zexal non l'ho vista tanto bene l'altra non l'ho vista più perché per vari motivi non ho più seguito né il gioco né l'anime e quindi non ho particolarmente cioè non sono particolarmente legato agli altri l'ho vista un po per completezza un po perché mi fa sempre piacere vedere i vari duelli però niente di che forse una nota a Virenze perché ci sono dei duelli che sono proprio uguali al meta cioè i mazzi tipo Salaman Great e Salaman Great come giocavamo a Local oppure c'è vinto in mondiale quindi un buon mazzo e nell'anime effettivamente usa proprio quelle combo lì infatti poi duelli durano un botto perché per fare una combo come nel meta attuale 20 minuti e fai il turno 1 però è molto interessante Hai detto che tu effettivamente hai giocato ma vedo alle tue spalle anche dei raccoglitori quindi la domanda che voglio farti ora è ti reputi più un collezionista o un giocatore o magari sei entrambi? Allora vorrei dire più giocatore però per forza di cose ormai quasi più collezionista proprio per mancanza di tempo diciamo che preferisco giocare al semplice collezionare poi diciamo da quando ho cominciato la collaborazione con MS20 collezionare diventa cioè non mi vado a cercare le carte tra le carte che creo io e le carte che poi mi arrivano ne trovo diciamo un bel po' e quindi mi tengo quelle là che mi piacciono di più oppure quelle là che sono importanti per il gioco poi il resto è così c'è uno scambio uno scambio così che avviene normalmente però non sono proprio un collezionista che si va a ricercare quella carta anzi l'unica cosa che adesso sto collezionando sono proprio le carte della collezione leggendaria cioè le ristampe dei 5-7 che sono uscite adesso tra i primi 4 più invasione del caos e l'ho deciso di fare questo raccoglitore qui dove c'è lo tipo album di figurine cioè con tutte le carte me ne mancano un bel po' adesso ovviamente tutte le più le ultra rare eccetera perché solo sbustando come sai bene non è che riesci a fare una collezione completa a meno che non apri proprio box su box però diciamo il progetto è quella di finire la raccolta e collezionarle tutte poi per il resto colleziono per lo più quello che mi piace per esempio c'è il mazzo eroe completo lo tengo aggiornato diciamo per il competitivo anche se ormai tornei non ne faccio quasi più cioè non ne faccio più gioco tra amici però diciamo mi diverto mi diverto un sacco così se ci fosse più tempo mi andrei a fare un botto di tornei cosa ti ha colpito di Yugi che in altri DCG invece non ti hanno suscitato interesse? allora la realtà è che Yugi è stata una conseguenza come ho detto prima una conseguenza diretta della visione dell'anime cioè del cartone animato e quindi è stato un percorso diciamo di vari passo ho cominciato a guardare il cartone volevo giocare perché giocavano nel cartone e ho conosciuto il gioco poi il fatto è che ti prende così tanto tempo ma poi ci piaceva così tanto che non ho mai diciamo indagato forse una volta da piccolo ho provato a giocare Magic mi hanno fatto vedere come si giocava però se non hai proprio non lo so il gruppo è sempre secondo me il gruppo d'amici perché non era non ero in un gruppo d'amici che ci giocava da solo ho fatto quelle giornate dove ti regalano un mazzo demo e ti fanno giocare è così però c'è poco interesse ho provato anche a prendere un mazzo e un box di Digimon perché gli artwork piacciono un botto e mi piace tantissimo proprio Digimon la storia è uno dei miei preferiti insieme poi Yugi e Cavalieri dello Zodio eccetera però pure lì non ho mai trovato con chi giocare di frequente quindi non è mai partita la passione Magic pure mi piacerebbe perché gli artwork sono pazzeschi però stesso discorso e poi adesso appunto non riesco nemmeno a giocare a Yugi quindi cominciare un nuovo è complicato mi piacerebbe pure cominciare a giocare a One Piece perché mi piace un botto pure lì la meccanica pure l'ho provata e mi sembra molto carina molto interessante molto veloce però non c'ho proprio tempo però mi piacerebbe cominciare quello pure l'Orcana a proposito ho visto i due video perché sono pazzeschi mi piacciono un sacco grazie figurati e poi le art sono disegnate da artisti che tra l'altro conosco, cioè di fama ovviamente perché sono appassionato e fan e quindi le prenderei anche solo per le illustrazioni e poi c'è pure, là ce l'ho forse qualche amico che comincerebbe a giocare quindi magari con quello è la volta buona che si comincia un nuovo TCC anche perché fra un po' arriveranno talmente tanti di quei contenuti per l'Orcana che mi sono messo d'accordo con Fantasia quindi ci saranno un sacco di cose da portare hai parlato ovviamente dell'artwork, delle varie carte, degli artisti dicendo che ovviamente tu sei un grande appassionato soprattutto degli artisti, sei un esperto dei vari nomi parliamo proprio della tua arte, come ti è nato l'interesse per il disegno ce lo hai già detto, da bambino sei praticamente nato con la matita in mano dato che da generazioni voi siete disegnatori ma la domanda che volevo implementarti è la seguente, come si è evoluta la tua tecnica fino ad arrivare a creare carte da gioco personalizzate? Allora la tecnica si è evoluta quando ho cominciato appunto come ti ho detto, cominci a frequentare una scuola di disegno e lì studi proprio le basi del disegno e quindi all'inizio è tutto molto più generico, ti preoccupi di capire la prospettiva l'anatomia, la recitazione dei personaggi, fumetto, storyboard, illustrazione eccetera eccetera però poi quando diciamo da Napoli, dalla scuola di Napoli mi sono trasferito a Roma a Roma ho trovato terreno fertile per sviluppare proprio il lato artistico e tecnico davvero quindi da lì ho cominciato a capire che se volevo diventare tra virgolette più bravo o bravo e volevo esprimermi dovevo puntare sulle cose che mi piaceva fare, studiare gli artisti che avevano già sviluppato questa capacità di raccontare con questo tipo di stile e quindi diventare più bravo in quello che sarebbe poi lo stile umoristico cartoon proprio dei vari toon e quindi ovviamente con la pratica, con l'esercizio, con i corsi di scuola a volte anche con corsi online che sono fatti molto bene siamo sempre in allenamento diciamo e quindi di volta in volta, ogni volta che continui e scopri cose nuove diciamo fai un piccolo power up, quasi come i personaggi degli anime che a furia di allenarsi e di fare scontri nuovi in quello successivo sono diventati molto più forti però senza aver fatto quello che viene prima non puoi arrivare al livello successivo quindi con tutto l'allenamento, lo studio, la ricerca, i disegni che fai in giro che capisci poi anche che cosa vuoi fare e da una cosa all'altra io facevo pure una specie di sfida con me stesso, il 365 Challenge nel 2019 dove postavo un disegno al giorno di qualsiasi tipo, più complesso o meno complesso e nel 2021 ho deciso di rifarlo però un collega mi ha detto a me ma perché non fai tematico cioè un mese è un tema, un mese è un altro e quindi dai pure un indirizzo più interessante ho detto ah figo facciamo così il primo mese ricordo era Dark Heroes quindi diciamo Batman e il boy erano un po' più oscuri il secondo ho detto ma buttiamocelo Yugi che poi stranamente, cioè fino ad allora non avevo mai ridisegnato roba a tema Yugi che è strano perché appunto invece è un botto non lo so perché mi sono inibito e non l'ho fatto però ho detto ah proviamoci ci disegniamo febbraio un mostro al giorno ho detto visto che mi piacciono tanto faccio i Toon e allora perché non fare la versione Toon di mostri che non ci sono sono partito dalle divinità e poi ho fatto vari mostri gli ero del destino, gli ero elementali quelli che mi facevano di più e vedendo queste illustrazioni mi hanno chiesto, mi hanno commissionato poi delle altre illustrazioni a tema Yugi o Toon e quindi ho capito che erano interessanti pure per gli altri quindi ho detto bah visto che piace alle persone adesso continuiamo, cioè non mi fermo a febbraio continuo a farne altre visto che ne avevo tanto ho detto ma sarebbe interessante farci proprio un mazzettino perché poi fare un mazzo creato da me è il sogno fin da bambino figurati con tutto quello che ho già fatto, le prove eccetera e poi da cosa nasce cosa, ho detto ma sai che c'è invece di postare sulla mia pagina generica mi abbro una pagina proprio a tema ho detto come la chiamiamo, ho fatto Yu-Gi-Oh, faccio Mirko che poi devo dire la verità, questa cosa del Mirko è stato emulato da già un paio di persone che hanno fatto come me hanno preso il nome e l'hanno diviso così sono contento di questa cosa perché vuol dire che funziona come idea e quindi ho fatto tipo tre mesi interi di preproduzione da marzo fino a maggio per preparare i post per studiare un po' meglio Instagram eccetera e poi ho aperto la pagina Mirko dove facevo vedere le carte e nel frattempo mentre le mostravo ho cercato pure i modi per riprodurle dal vivo all'inizio mi ero affidata una persona con cui mi ero messa d'accordo che avrebbe dovuto farmi un mazzo in cambio di illustrazione però io ho fatto illustrazione e la persona non mi ha mai fatto il mazzo quindi l'accordo è venuto meno mio malgrado insomma così inaspettatamente quindi ho detto vabbè faccio da solo che chi fa da se fa per tre e poi piano 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 è nato anche proprio il mazzo fisico TUN quindi un po' così tutto il percorso dell'evoluzione quindi come già hai detto tu hai creato anche dei mazzi interi note io ho iniziato a seguirti proprio perché ho visto le divinità egizie vi consiglio di andarle a visionare perché sono davvero delle opere d'arte note sono le liste dei vari protagonisti della serie animata che tu hai portato ovvero i TUN, i Tondelli addirittura l'ultimo mazzo Tondelli a tema camera caffè veramente dei capolavori quanti deck hai creato tu precisamente anche in collaborazione con altri illustratori e quale tra tutti questi progetti ti ha interessato e ti ha divertito maggiormente? io ho creato come primo come abbiamo detto il mazzo TUN che è proprio la rappresentazione della mia come se fosse un artbook come fanno vari disegnatori poi che si autoproducono gli artbook invece di crearmi l'artbook ho creato il mazzo quindi un formato diverso per mostrare al mondo le proprie illustrazioni i propri lavori pure perché non essendo un prodotto ufficiale non ci puoi fare molto se non vederlo e giocare con amici che però parecchi si sono divertiti moltissimo perché poi è pensato pure per essere giocato e divertirsi tra amici ho fatto quello in versione italiano ed inglese e poi appunto su commissione ho creato il mazzo Tondello quella a tema camera caffè eppure lì sono tutte illustrazioni originali mi sono divertito un botto pure il committente si è divertito è andato bene eccetera e poi ho creato i mazzi dell'anime cioè la versione anime dei mazzi dei protagonisti e dei coprotagonisti che ovviamente non è mai esistita però è un'altra cosa che avrei sempre voluto vedere l'ho trovata magari online però la ordinavi dall'America, dal Canada e poi non era mai come volevo io quindi mi ci sono messo e ho creato pure qui un prodottino artigianale per i fan per me e per qualche fan che magari la desiderava ardentemente come cosa e ho creato per adesso come vedete sopra sono in tutto 14 mazzi alcuni li ho fatti solo per me e per adesso perché non le ho date a nessun altro e quindi di questi 14 personaggi dell'anime ne ho fatti un po' della prima serie Yugi, Kaiba, Joy, Maric, Pegasus, Bakura e Mai Valentine e poi quelli delle serie successive con Yusei, Jack, Jaden e Chaz Zane, Aster Phoenix e Kite quindi un po' il mio gusto personale perché erano i miei personaggi preferiti un po' seguendo pure tra virgolette il volere dei follower perché ha fatto un po' di contest un po' di di sondaggi soprattutto quello di Yusei ha vinto il show the next anime deck che era un po' così per festeggiare uno dei traguardi perché ogni tot follower faceva un po' per coinvolgere le persone e creare un po' di senso di community cosette del genere ma poi proprio perché è una cosa che è legata all'infanzia è proprio quel avrei sempre voluto averlo non l'ho mai potuto avere adesso che ho i mezzi lo faccio e lo condivido pure magari con chi si emoziona per cose del genere tant'è che ho portato un mazzo di Chaz a un ragazzo ci siamo incontrati qui vicino a Casalbertone al centro commerciale e quando l'ha visto l'ha aperto si è commosso cioè gli è scesa dopo la lacrima ha fatto scusa non immaginavo cioè pelle d'oca eccetera perché appunto vedere le carte in versione anime dal vivo è una cosa fighissima poi per noi che ci siamo cresciuti e che abbiamo sempre visto le carte in quel modo non capivamo perché fossero così diverse dalla realtà però le vedevamo stavano lì e un po' ci piacevano le bramavamo però non esistevano per chiunque ti chiedo scusa se ti interrompo adesso state vedendo proprio la differenza tra le carte dell'anime e le carte del manga che sono completamente diametralmente diverse le state vedendo in questo preciso istante al posto del mio faccione quindi adesso sapete perfettamente a cosa si sta riferendo Mirko e poi ho pure scoperto non so se interessa ma ho scoperto il perché le carte nell'anime sono così e non sono come nel gioco reale cioè sono aspetta che ti prendo un mago nero eccola qua vedi solo illustrazione solo attacco e difesa invece ovviamente nella realtà abbiamo tutto nome effetti stelline eccetera e ho scoperto appunto che è un fatto legato alla regolamentazione americana cioè la 4Kids non poteva riprodurre le carte così come erano nel gioco perché era considerato product placement e quindi si sono inventati la versione che noi conosciamo come versione anime io da piccolo non lo non immaginavo poi crescendo ho pensato fosse qualcosa legato alla traduzione che poi in vari paesi era difficile da fare e invece no è legata a questo fatto della legislazione tant'è che il film del 2004 piramide di luce le carte sono così come sono nella realtà con nome effetto pure la foilatura tipo tra che bianco chi blu hanno la scritta dorata fighissima proprio perché il lungometraggio non segue le stesse regole dei prodotti di animazione e quindi diciamo ho trovato la spiegazione a questo arcano che mi facevo domande da forse vent'anni su sta cosa e quindi è legato solo a un fatto di legge e basta e credo che in 25 anni non abbia mai avuto la risposta neanche io quindi me la stai dando proprio tu in questo momento signori attenzione queste sono informazioni perfette che sembrano quisquilie ma vanno ad arricchire il mondo dei giochi di carte collezionabili anche perché sono curiosità davvero molto molto interessanti quindi ti ringrazio Mirko per averci dato anche questo input perché certo che è interessante assolutamente sì perché è una cosa che comunque riguarda i GCC e quindi tutto è interessante se riguarda i GCC adesso procediamo all'ultima domanda purtroppo visto che tu sei un artista esperto che insegna anche alla scuola romana dei fumetti quale consiglio daresti a tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nel mondo dell'illustrazione dei giochi di carte collezionabili allora consiglio assolutamente di seguire un percorso formativo legato al mondo del disegno ma anche al mondo del fumetto cioè come ho fatto io avendo avuto questo tipo di percorso non posso che consigliare il mio tipo di percorso perché innanzitutto è difficile abbattere quella specie di credenza popolare che o sai disegnare dalla nascita o c'hai il dono o non ce l'hai e quindi parecchi si fermano prima ancora di intraprendere un percorso del genere sbagliando perché poi impari a disegnare effettivamente solo quando fai questo tipo di percorso perché anche io che le persone mi dicevano bravo sei bravo a disegnare sei bravo eccetera cominciando il percorso ho capito che io stavo a meno di zero perché appunto una cosa è copiare disegni già fatti quello che fa un ragazzo che ama disegnare eccetera e una cosa è disegnare capire la profondità riuscire a muovere un personaggio nello spazio e poi ovviamente più avanti tutto quello che consegue nello studio del colore della luce della recitazione dei personaggi delle delle illustrazioni anche delle carte eccetera però come lo apprendi? Lo apprendi studiando cioè come qualsiasi altro mestiere o appunto cioè non diresti mai a un bambino che vuole fare il medico no non puoi fare il medico perché adesso non conosci la medicina che vuol dire e poi appunto quando ti dicono ah sei bravo perché c'hai il dono ti tolgono pure tutta la fatica che hai fatto che ovviamente si ottiene lavorando ma una chicca che dico a chi vuole cominciare non vi abbattete mai pure se qualcuno che lo fa come mestiere vi dice si vede che non sei bravo o non sei portato perché è una cosa che ho subito anch'io quando facevo scuola di fumetto a Napoli il primo anno nei primi 3-4 mesi uno degli insegnanti vedendo gli esercizi che avevo fatto durante le vacanze di Natale disse cioè a parte li vedeva tipo scocciato arrabbiato eccetera mi rilancia il blocco con gli schizzi e fa vabbè mi si vede che te non sei portato per il disegno lo dico pure contro gli interessi di scuola ma ti conviene cambiare strada se ancora in tempo fai un'altra cosa perché il disegno non fa non fa proprio per te e quindi partendo da una premessa del genere parecchi si sarebbero scoraggiati tant'è che poi con questo tipo di atteggiamento parecchi si fermano e non continuano però non significa niente perché sia all'inizio e soprattutto tu non puoi dire una cosa del genere non vi abbattete ma parlo come se parlassi con voi che volete cominciare non vi abbattete perché si impara cioè se ovviamente state 12 ore al giorno per tre anni e non ottenete risultati cosa improbabile veramente improbabile però se dovesse succedere e vedete che alla fine non vi appassiona così tanto potete cambiare strada cioè però deve deve partire da voi questa cosa cioè dovete essere voi a valutare i pro e i contro e scegliere la strada che volete fare se invece avete questa forte passione e volete imparare andate sempre dritti cioè disegnate sempre continuate sempre seguite i percorsi seguite i corsi e poi il disegno è una cosa che si impara col tempo con la pazienza e bisogna anche reggere una buona dose di frustrazione perché appunto i miglioramenti sono molto 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 lenti e lì noti magari tipo un anno cioè prendi i disegni di un anno prima vedi quelli che fai ora e vedi la differenza perché ai tuoi occhi i tuoi disegni sembrano sempre dello stesso livello invece se guardi i vecchi disegni e nuovi vedi il miglioramento così come quando lo vedono le persone esterne che hanno un altro tipo di occhio quindi il mio consiglio è quello poi ovviamente una volta che c'è una formazione base diciamo solida sul mondo del disegno quale che sia il percorso che vuoi seguire l'importante è farlo con scuole qualificate fatte bene perché poi ultimamente vediamo pure un sacco di persone che dal nulla creano scuole online o scuole così diciamo partono da poco però non formate da professionisti eccetera e quindi là ti affidi a persone che non sono capaci né di disegnare né di trasmettere veramente questa cosa quindi informatevi bene che è complicata come situazione e poi una volta diciamo creata una base buona diciamo indirizzarvi se volete fare proprio illustrazione giochi di carte da solo cioè nel senso che quando c'è queste basi le cose specifiche poi le apprendi da solo ti studi gli artisti vedi appunto come ho fatto io cioè io ho cominciato facendo fumetto però poi quando ho capito delle cose nel mondo del disegno mi sono studiato la tecnica di artisti che facevano queste cose l'ho replicata e quindi ho potuto ma anche studiando le illustrazioni tipo le illustrazioni di un mele guardavo cercavo di capire come ottenere determinati effetti per far sembrare che i miei mostri fossero simili a quel tipo di archetipo e l'ho replicato ma l'ho fatto solo perché appunto forte degli anni di pratica e di di studio del disegno del colore a tutto tondo digitale tradizionale sono riuscito ad arrivare a questo punto studiate studiate che non è facile ma non è nemmeno impossibile ci vuole tempo pazienza e impegno quando riuscite a unire queste tre cose insieme vedrete i risultati che arrivano piano piano Mirko è stato davvero un immenso piacere averti ospite qui sul canale e per averci fornito delle risposte davvero molto interessanti atta ad approfondire questo aspetto dei giochi di carte collezionabili che potrà di sicuro interessare a tutti quegli illustratori in erba che vorranno cimentarsi nel creare le proprie immagini personali vi lascerò tutti i riferimenti ai social e al canale youtube di Mirko come sempre in descrizione grazie a te grazie a voi ragazzi un abbraccio a tutti prima di salutarci però volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno guardando di iscriversi al canale di lasciare un like di commentare o condividere questo contenuto con i propri amici in questo modo crescendo mi aiuterete a portare contenuti sempre più ricercati ed innovativi grazie infinite in anticipo signori noi ci vediamo in un nuovo appuntamento di il salotto sul crogiolo e nei prossimi video in arrivo sul canale verso nuovi DCG ed oltre a presto